è brutto salve a tutti e bentornati nel nostro appuntamento del lunedì con una stromberga qui sotto attenzione adesso sta un po' laggando adesso la andremo a far esplodere ovviamente nel caso non si fosse capito ehi tu che bel colore sei anche fortunato mi piace proprio nera opaca incredibile si tanto non la prenderò mai così ehi ti puoi fermare per favore forse non è molto intelligente come cosa perché mi sparerà sicuramente dei missili quindi ah sta inseguendo quello ottimo fermo lì mamma mia l'ho colpita ora la colpisco fermati non c'è non mi sparare non mi sparare amico era la cosa più prevedibile da fare quindi io pensavo non l'avrebbe fatta invece l'ha fatta sto maledetto babbalucco allora arrivo con l'oppressor oppressor versus stromberg vediamo chi vince vi ricordo comunque che nel caso voleste comprare o vendere un account modato di gta online per ps4 oppure voleste acquistare un'aggiunta di denaro in descrizione c'è il link di gta cash eh cazzo hai flare però questa oppressor non va bene ah vabbè è sceso e allora che problema c'è allora aspetta un po' aspetta un po' ehi l'hanno ucciduto ok allora saliamo qui che è sicuramente un punto vantaggio ho sentito un rumore vabbè non importa mettiamoci qui sull'orlo del precipizio uh guarda che sorpresa vabbè non sono stato io però a farlo cadere purtroppo là e c'è il coso in mezzo ma che dico in mezzo in muzzo stardo maledetto maledetto ok uno l'altro non si fa vedere ah eccolo stardo aspetta un po' aspetta un po' che quello questo qua rosa vuole farmi la festa allora non lo vedo non lo vedo vabbè almeno mi salvo là si va buia adesso non allargarti troppo buonissimo er fantasma chiamavano l'ha ucciso e questo cosa fa questo cosa vuole fare vieni 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 ti sto attendendo e anche la tua morte ti attendeva io ero la tua morte nel caso non si fosse capito ehi ciao pompieri cosa fate sono venuti per si sono venuti per spegnere il bruciore di quello di questi qui aspetta aspetta il tbs questo mi sta sparata lì e mi ha rotto il cazzo ma hai rotto il cazzo tu mi hai rotto il cazzo orca orca ma è bravo rifuggeti di là allora di nuovo snack ho pochissimi tagli in sto video oh oh che bello si ma eh muori ragazzi allora tu dove cazzo vuoi andare dove cazzo pensi di andare brutto cretino che rinci trullito che so si tranquilli tranzollo proprio si usava nel 2005 tranzollo e e là attenzione morte è arrivata perfetto ho un pacco speciale ed è la morte oggi sto distronzata più del solito ora serio serio perché sono tantissimi e sono anche molto forti ah l'ho preso perfetto allora aspetta un attimo che c'è questo rosa che ha attivato nasconduto a radar dove sei my brother ah uno con l'ho preso vabbè non serve più in realtà basta ecco e aspettate guardate che succede succede che esplodi un momentino che arriva tanto richiedo ah sto arrivando con una cosa una motrice ehi ciao ciao brother la oh oh no e l'altro putano ok un po' arrabbiato stai fermissimo ok ah e mo e mo esplodi esplodissimi grazie mille ah c'è la soluzione più semplice uh ho killato uno nel frattempo aspetta la e questo l'ho killato ma stai cercando di recuperare il rimorchio o stai tryhardando perché non ho capito l'ho ucciso ah ah la perfetto e la ah sta andando in maro nel maro sta andando devi morire devi morire perfetto chissà se l'ha capito che deve morire no la passiva non mettere la passiva sai non lo oh oh è saltato in aria da in piedi ma puoi morire per favore eh puoi morire grazie ma bo sto rimorchio mi ha stufato sinceramente ma abbiamo creato un'opera d'arte mobile mica tanto mobile ormai ehi la ehi ho detto ehi la significa che devi morire gli ho fatto anche un ride shot wow lasciamo che mi uccida dai vediamo che fa ma vicino col tirapugni si uccidimi si sei libero di farlo vai ma che sta facendo maledetto maledetto ah si è a pugni va bene va bene vieni vieni si 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 porca puta non la prendi l'arma bastardo sto arrivando eccomi eccomi si si vediamo se ce la fai vediamo se ce la fai vediamo un po' mi sa proprio di no 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 porca puta si si proprio propriissimo e muori maledetto muori ho detto dai 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 eccomi qua ehi si 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 cosa fai cosa fai cosa stai fa è caduto poraccio poraccio muori maledetto che fai che fai cosa cazzo fai muori ecco cosa devi fare vieni 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 ah si ah si eh ah ah sai che sta rosica ma non è ma non è ma non è ehi si proprio mai frega oh ah ah non mai porca puttana si vieni vieni ti aspetta ah ehi si proprio si si ha funzionato tranquillo muori maledetto ti distruggo ti ah si eh ah forse non hai capito che ti distruggo ecco ce l'ha fatta ne sta ancora a besta ma guarda te il trattore è rarissimo è rarissimo fermati firmati dammi qua il trattore dammi il trattore sai questo è uno dei mezzi più rari di cta online ciao brother ciao si ma te sei buttato praticamente sotto no no mi sono offeso adesso me ne vado ciao andiamo a rompere le scatole eh volevo dire a fare un po' di giustizia ma quanto posso essere un rincoglionito di merda oh cazzo si vabbè quello in fiamme ma la mia oppressora è ancora salva cosa? ah ah fregati tutti ah avevo fregati perfetto il giustiziere sta arrivando maledetto devi smetterla di uccidere quello lì hai capito? devi smetterla ah ma l'ho ucciso ma che cazzo quanto lagga questo frase mai sentita sul mio canale eh l'altro amico no la delaxo bastardo con la delaxo devi esplodere maledetto e questo cosa fa? boh questo che fa? ancora inattivo? no no non è inattivo no non farlo non lo fa oh por oh maledetto lagone e l'ha pure distrutto come se però si si proprio maledetto alzati alzati babbalucco però devo dire che è un po' noiosa la cosa che la gente non possa più richiedere l'oppressore a manetta ora non c'è più divertimento abbatti quelli che prendono l'oppressore fine non la possono più chiamare ma semo due cangiare ora volete proprio che prenda il laser no proviamo con la strombre va eh ragazzi posso spiegare l'ha fatta Vanessa questa comunque ehi ciao mori oh perfetto sono caduti si caduti sono usciti tanto quello l'ho distrutto quindi ottimo questi si sono distrutti da soli quindi meglio di così non poteva andare oddio si potevo ucciderli io però vabbè si 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 non esageriamo eh guarda tutta sta confidenza malevetto ah l'oppressor si eh ah la moglie la distruggo non potrà più chiamarla che noia è una cosa positiva questa ma non c'è più divertimento ma è brutto perché non possono più riprendere l'oppressor cioè di base è una cosa positiva ma ma è tutto così noioso i tryhard sono così noiosi adesso dimmi perché non ne trovi di farti che raschia palle quelli che dicono così ah che delusione che delusione aspettavo da tanto sta cosa e ora che è successa mi ha deluso perché non c'è più divertimento la e la ok vienzo con quella cula ah no l'oppressor e muore allora bastardo ah no è l'amico va ok ma arriva l'oppressor questo muo ma è inattivo anche questo ma che fanno boh bah io non li capisco boh raga io direi che per oggi mi sono annoiato abbastanza con questi ultimi per il resto mi sono divertito però prendo un pugnico e l'altro io vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima